Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, amici, amici, I am Mr. Blogger Valeriani. Avevo in programma stamattina di fare il pagellone della Serie A e vi rammento che ci saranno delle sorprese sui voti che darò, ma sono stato investito dallo tsunami, dalle parole di Paolo Maldini, che come al solito sono state travisate e hanno creato il panico, lo schifo tra i tifosi milanisti. Punto primo, Paolo Maldini ha fatto benissimo a rilasciare quelle dichiarazioni, ha fatto benissimo a sottolineare il lavoro svolto e soprattutto a rimarcare un difetto che hanno queste proprietà straniere, queste proprietà statunitensi, queste proprietà non italiane. Difetti di comunicazione. A volte, a volte, forse noi eravamo abituati con le proprietà delle famiglie, cioè delle famiglie Moratti, Berlusconi, Agnelli tuttora, che quando c'era una grana, quando c'era un problema o quando c'era qualcosa che non andava, subito si interveniva, subito si parlava, subito si comunicava. Questa era la deadline. Queste proprietà straniere hanno un brutto vizio, ma brutto, brutto. È il loro modo di fare, bisogna abituarsi. Non comunicano solo le decisioni prima o le comunicano all'ultimo minuto, oppure dicono lasciamo tutto com'è, va tutto bene. Cioè non hanno quella elasticità di comunicare, di agire, di fare immediata. Cioè aspettano il tempo giusto. Come infatti la vendita. Sendo questa cosa qua, sento questa cosa qua, sento quest'altra campana, poi decido. E non comunicano lo svolgersi degli eventi. Perché a volte te lo fanno così, te lo fanno e lasciano l'adito, lasciano spazio a tutta l'immondizia, a tutto lo schifo che c'è in giro. Perché quando, quando c'è stata la voce Radnik, Gazzini si ha detto siete tutti in bilico, all'ultimo istante, perché c'era un pazzoide tedesco che ci voleva rovinà e grazie a Dio abbiamo avuto risultati e ci siamo salvati da quello schifo. Perché il lavoro di Paolo Maldini è sotto gli occhi di tutti. Senza Paolo Maldini, senza Frederic Massara, senza Zlatan Ibrahimovic e con quel pazzoide di Rannik in banchina, noi andavamo in B. Perché poi vedete il lavoro che ha fatto Raff Ranni come allenatore al Magister United. Uno schifo! E adesso dobbiamo vedere la dirigente, perché Tenag è venuto a salvare le sue stronzate e la sua proprietà, la sua gestione, il suo modus operandi. Quindi io ci penserei due volte, prima di far andare via, un dirigente come Paolo Maldini che nelle sue stesse parole si è definito un garantista del milanista. E io sono ancora più fiero di avere Paolo Maldini come garantista. Perché Paolo Maldini è il Milan, dirigente con le palle, con gli attributi. E ribadisco quello che ho sempre detto. Non si fa ricattare dai giocatori e da chi li assiste. Paolo Maldini, qualcuno vuole andare via, nessun problema, ne trova un altro. Il suo modo di agire. Paolo Maldini è una persona con un carisma e una schiettezza e una sincerità immane. Paolo Maldini è rimasto male che nessuno ancora gli abbia detto. Non dico bravo perché se lo deve sentire dire. Ma soprattutto nessuno gli abbia detto guarda che siete tranquilli al vostro posto. In qualunque caso, sia di cambio di proprietà, sia che andiamo avanti noi. Perché Maldini di essersi, di venire detto che è bravo, non gliene fa ottenere niente. Lo sa già di suo che è bravo. Nella sua smisurata, come Braiovic, non dico presunzione, ma la sua smisurata indirigenza. Sa di saperne di calcio. Sa di essere un bravo dirigente, così come sapeva di essere un grande calciatore. Però si aspettava che almeno qualcuno gli disse stai tranquillo che proseguiremo con De. Questo è quello che si aspettava Paolo Maldini. Questo è quello che si aspettavano i tifosi per stare un po' tranquilli. Ma io ho avuto delle rassicurazioni che non c'è nessuna paura che Paolo Maldini vada via dal Milan. Questo non posso dirvi chi ve l'ha detto, ma almeno così mi è stato riferito. Ma questo è il punto focale. Paolo Maldini ha centrato quello che bisogna fare per aprire un ciclo. Tre acquisti. Non undici, non il Paris Saint Germain. Tre. Quello che ho sempre detto io. Aperti chiusa parentesi. Ci vogliono tre acquisti, ma forti per davvero. E si torna a fare il Milan. Questo è il pensiero di Paolo Maldini. Che non è prendiamo undici messi. Tre. Non undici acquisti. Tre. Quelli che ho detto che si dovevano fare a gennaio. Aperti chiusa parentesi. E il campionato si vinceva prima. Ma lasciamo stare. Comunque state tranquilli. Non vomitate schifo. Non rovinate la settimana della peste. Calma. 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 Perché qualunque proprietà arrivi è sotto gli occhi di tutti. Il miracolo nel senso di programmazione di questa dirigenza. Perché ribadisco il concetto forte e chiaro. Se veniva quel pazzoide di Rannick e non c'erano Maldini, Kier, Ibrahimic e Stefano Pioli, noi si lottava per la retrocessione. Quando invece hai preso Maldini, hai tenuto Maldini e dovevi tenere anche Boban. Aperti chiusa parentesi. Ma Boban è ancora più, 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 tra virgolette bastardo di Maldini. Vomita schifo quando una cosa non le piace. E lo ha fatto anche Paolo, ma si è trattenuto. Boban ha vomitato ancora più schifo quando è stato mandato via. Che Boban ha detto ci hanno scavalcato e ha detto quello che stava realmente succedendo. Che qualcuno è andato a chiamare quel pazzoide tedesco. Quindi state tranquilli che Maldini è il Milan. E questo rappresenta l'idea di calcio e ne sa di calcio. Quindi state e stiamo tranquilli. Ribalisco il concetto. Mi sarei aspettato, come è sempre detto, dalle proprietà straniere. Maggiore elasticità. Maggiore elasticità soprattutto nel risolvere i problemi. Cioè quando un problema si risolve non far scoppiare la bomba, ma quando per esempio si fa male qualcuno, quando servono acquisti, vanno fatti. Specie a gennaio. Quando ci sono gli infortuni, vanno fatti gli acquisti. Ecco, quella elasticità, quella velocità di reazione, quella velocità comunicativa che queste proprietà non hanno. Perché dicono tanto al momento giusto comunichiamo. No. Perché i tifosi vanno in ansia, si crea schifo, si rovinano le feste. Quello devono capire. Noi purtroppo in Italia veniamo dalle gestioni delle famiglie, delle famiglie Moratti, Berlusconi, lo stesso Agnelli. Gestiscono così, parlano, comunicano, a volte prendono anche, ti dicono una cosa, poi ne fanno altro, però comunicano. Comunicano. Qualunque cosa la dicono. Stiamo facendo questo, poi non si realizza, ma te lo dicono. Anche se ti prendo per culo. Che fa male. Però almeno il tifoso si sente tranquillo, che non brancola nel buio. Ecco, quella è la sensazione che sentiamo oggi. Di oh madonna che succede. Calma. Calma. È il loro modus operandi di queste proprietà straniere. E anche all'estero fanno così, eh. Non soltanto da noi. Quindi stiamo calmi, rilassati, schisci, che non succede l'apocalisse. Quindi ribadisco. Vediamo che succede. Questo è quello che penso sulla faccenda Maldini. Me l'hanno già chiesto in Dandi di parlarne. Le parole di Maldini sono state travisate, ma è soprattutto un monito alla società. Guardate il lavoro fatto. È il caso di apprezzare il lavoro fatto e di riconoscere i meriti di chi ha fatto questo lavoro. Ma non perché glielo devi dire che è bravo. Perché ribadisco. Maldini già lo sa di essere bravo. Ma vuole fatti concreti. Vuole azioni concrete. Vuole chiarezza. Come vogliamo tutti. Quindi questo mi sentivo di spiegare la situazione Maldini, Elliot, questa bomba. Ma che in realtà bomba non è. Però è un messaggio. È un monito. Guaiù, svegliatevi. che una vittoria l'abbiamo fatta. Ma per non essere estemporanei non va bene quello che avete fatto finora. Bisogna alzare l'asticella. È un monito a migliorare. È un monito ad aumentare il livello. Perché non basta quello che si è stato fatto. Se si vuole vincere in Europa bisogna alzare il livello. Se si vuole continuare a vincere bisogna alzare il livello. È questa la mentalità di chi vince, di chi non si accontenta, di chi come Zlatan Ibrahimovic si fa operare per continuare quello che è stato fatto. È quello che deve recepire la proprietà. Non deve neanche stizzirsi per quelle dichiarazioni. Ma deve apprezzarle. deve fare le sue. E dire guaiù sì, andiamo avanti insieme. Oppure passiamo di mano ma state tranquilli. Questo è quello che deve essere fatto. E sono sicuro che ve l'ha fatto. Ai tifosi dico calma, non vomitate schifo, non andate in panico. Calma. Vediamo quello che succede. ma state tranquilli che questa società è viva, è sana e funziona e funzionerà. Sempre. Ciao a tutti.